Oggi abbiamo fatto le operazioni con le misure degli angoli. Qui vediamo un'addizione il cui risultato è 74 gradi, 67 primi e 46 secondi. Ricordiamo che le misure degli angoli sono a base 60, quindi il risultato dei primi e dei secondi maggiori a 60 lo dobbiamo ridurre a forma normale. Il 46 resta così. Invece, da quanti gradi è formato il 67? È formato da un grado e sette primi. Quindi i sette primi li lasciamo così e aggiungiamo un grado 74 che diventano 75.